No, questo è il punto nevralgico dell'azienda perché qui c'è il famoso telecontrollo, ovvero noi controlliamo i nostri 1500 km di rete che è stesa in quasi tutta la provincia di Alessandria attraverso questa sala che ci dà l'indicazione di com'è la situazione degli impianti, delle condotte, se la pressione erogata è costante, se le nostre pompe funzionano, se i pozzi sono tutti in funzione e se c'è qualcosa che non va parte un messaggio in automatico a chi è reperibile, poi ovviamente la nostra forza è la forza sul campo, quella che abbiamo dimostrato quest'anno, l'anno scorso con l'emergenza idrica che ha segnato la popolazione per quasi quattro mesi, i nostri ragazzi in giro per tutti gli impianti hanno cercato di regolare le cose in modo che dove potevamo siamo riusciti comunque a erogarla anche in situazioni di penuria d'acqua, dove non ci siamo riusciti abbiamo organizzato il servizio con le autobotti che ci ha costato un sacco di soldi, insomma, però io ritengo che abbiamo fatto un'attività, abbiamo sostenuto socio-economicamente un territorio, perché non ci siamo limitati a dare acqua al minimo consentito di legge, ma l'abbiamo data agli esercizi commerciali, non abbiamo interrotto l'acqua ai ristoranti, se non in casi sporadici, quando proprio non ce l'abbiamo fatta, agli allevamenti, quindi noi abbiamo sostenuto anche tutti gli allevamenti, perché nella zona della Quesi ci sono allevamenti di qualità importanti, quindi noi abbiamo cercato di fare il possibile partendo da questa stanza qua, che è una stanza dove ci sono delle segnalazioni di quello che sta succedendo, ma poi facendo effettivamente quello che è il nostro lavoro intervenendo sul campo. Per dare più solidità al nostro sistema quest'anno abbiamo chiesto lo stato di emergenza e di calamità e questo in un consiglio dei ministri è stato approvato e quindi il 3 è apparso sulla gazzetta ufficiale 3 marzo che ci è stato concesso un finanziamento. Ecco qui la parte politica adesso farà il proprio percorso, perché questi soldi servono appunto per mettere in sicurezza il sistema. Noi già qualche cosa abbiamo fatto, ad esempio per l'Alta Langa Stigiana abbiamo già investito 200 mila euro in un rilancio che ci permette di portare l'acqua ad altezze superiori, oggi non potevamo, con un accordo con l'acquedotto delle Alpi Cuneesi, abbiamo messo in sicurezza Carentino, Carentino ha avuto un inquinamento importantissimo, anche lì abbiamo spesso altri 200 mila euro, ogni volta che interveniamo non sono decine ma centinaia di migliaia di euro, quindi è importante che tutti noi cittadini capiamo l'importanza di questo bene che deve essere da una parte usato eticamente, cioè con regolazione, dall'altra bisogna capire che non può essere gratis. Ogni anno ci costa 20 milioni erogare questo servizio in condotte, reti, manutenzioni, personale.